Per 35mm oggi intervistiamo Hussein Tabak, un regista austriaco di chiare origini turche che presenta qui al Gifone Experience 2013 ben due film nella sezione più 6 The Horse on the Balcony e nella sezione più 13 Your Beauty is worth nothing Cominciamo con The Horse on the Balcony Perché hai deciso di trattare un tema così delicato come la sindrome di Asperger? Ho scelto la scelta e a quella volta scrivo il mio primo film ma dopo che ho scelto la prima pagina mi sono innamorato con la storia e ho scelto la mia scelta e ho innamorato con la scelta Tu credi in una sorta di pet therapy? Cioè questo cavallo che aiuterà il bambino a superare i suoi problemi? Sì, perché i animali e i uomini stanno parlando con i altri Quando i bambini possono parlare con i adulti possono collegare con i animali perché i bambini sentono quello che i bambini sentono ma a volte gli adulti sono molto stressati e nella loro vita normale non hanno il tempo per sentire quello che i bambini sentono ma i bambini sappiano questo in un secondo Passiamo ora a Your Beauty is worth nothing dove c'è un bambino, un 12 anni che si trasferisce a Vienna ma non sa parlare il tedesco quindi ha grandissimi problemi di integrazione È un po' la tua storia? C'è qualcosa di autobiografico in questo? C'è una storia di amore perché si trova in amore con una ragione nella sua scelta che è autobiografico ma sono nato in Germania quindi non avevo questi problemi Hai vissuto qualche problema nell'integrazione a Vienna? Sì, in Vienna la maggior parte di Iguoslavia o di Turki sono arrivati negli anni 90 quindi non sono arrivati a lavorare in Germania è come le persone sono arrivati negli anni 60 e 70 perché in Germania bisogna lavorare ma queste persone sono arrivati perché non avevano abbia abbastanza pieno o di politici quindi è più difficile da integrare perché non ottenere più e i bambini non fanno bene in la scuola quindi abbiamo un problema dell'integrazione in Austria ma dall'altra parte credo che l'integrazione non è solo un problema non possiamo sempre dire che è il governo ma credo che è qualcosa che deve succedere nelle persone le persone devono dare il sentimento che sei benvenuto e a volte in Vienna non hai l'integrazione Il tuo bellezza non vale nulla è il lavoro finale nella scuola dove hai studiato a Vienna uno degli insegnanti era Michael Haneke quanto ha influito i suoi insegnamenti sul tuo lavoro? non il suo lavoro ma la sua personalità ha influenzato mi ho appena in gli insegnanti che preparazione molto bene per un film che devi sapere cosa fare quindi quando sei 40-50 persone sono come il capitano e sei sempre in charge quindi devi essere bene e la terza è di amare i suoi 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 noi di 35mm chiediamo sempre qual è il film che ti ha fatto impazzire quando eri bambino e che ti ha un po' portato a diventare quello che sei quindi un cineasta non so magari classico Rocky 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 il primo il primo il primo però quando ho iniziato a lavorare a film i suoi ho iniziato a ricordare ciò che mi ha influenzato e penso che si è venuto quando ero a scuola a scuola a scuola a scuola mi ha detto una storia e quando ero a scuola e la storia non è finita io ero a scuola a scuola o ho detto le storie quando ero in bed quindi il film è dicendo le storie che posso pensare ma il più effetto è Charlie Chaplin che mi ha molto in Your Beauty Is Worth Nothing c'è una scena molto toccante dove c'è il poster di Ali è un messaggio per il mio prossimo film ok per 35mm è tutto ringraziamo Usain Tabak grazie 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 ciao ciao